In una serata di relax impreziosita da gelato al pistacchio e dolci al cioccolato, Fedez si ritrova a guardare attentamente il falò di confronto tra la coppia di Temptation Island formata da Lino e Alessia. Il rapper, sempre attivo sui social durante il suo tour estivo, condivide con i follower le sue riflessioni su questo momento clou del reality show. Il falò di confronto tra Lino e Alessia. La coppia Lino e Alessia si è distinta all'interno del programma per un confronto intenso e complesso, culminato nell'ultimo falò denominato, dell'ultima spiaggia. Alessia, con il supporto del conduttore, registra un video in cui invita il suo ex fidanzato a presentarsi al falò per affrontare le questioni irrisolte della loro relazione. Le riflessioni di Fedez. Fedez, osservando la situazione tra Lino e Alessia, esprime la sua opinione sulla gestione del confronto da parte di Lino, definendola in modo critico. Nonostante il rapper non si soffermi ulteriormente sul tema, è evidente che la storia tra i due concorrenti abbia catturato l'attenzione di molte personalità del mondo dello spettacolo, compreso lui stesso. Curiosità e attesa nel mondo dello spettacolo. La presenza di Lino e Alessia a Temptation Island ha generato interesse e curiosità non solo tra il pubblico televisivo, ma anche tra vari personaggi noti dello spettacolo. L'evolversi della situazione tra i due protagonisti ha alimentato le discussioni e le aspettative di chi segue il programma con interesse, contribuendo a creare un clima di attesa e di coinvolgimento diffuso nell'ambiente artistico. Alla luce di queste dinamiche, appare evidente come il falò di confronto tra Lino e Alessia abbia suscitato emozioni e discussioni anche al di fuori dei confini televisivi, diventando un argomento di interesse trasversale nel mondo dello spettacolo italiano. Fedez, con la sua partecipazione attenta e le sue riflessioni, conferma l'ampia eco che certi momenti televisivi possono generare nella cultura pop contemporanea.